Buongiorno, io sono Pietro Di Lorenzo, oggi è il 12 dicembre 2012 e vorrei presentarvi anziché la solita analisi del mercato, un piccolo omaggio che abbiamo preparato per tutte le persone che guardano i nostri video e che nasce proprio da un'esigenza che mi è stata manifestata da diverse persone che in questa fase di grande incertezza dei mercati, di elevata volatilità e anche in un contesto politico piuttosto, come dire, intricato da interpretare, desiderano in qualche modo parcheggiare per alcuni mesi piuttosto che settimane, piuttosto che un periodo più lungo la propria liquidità in strumenti che diano un rendimento certo in grado di combattere l'infazione e di essere assolutamente al sicuro in ogni forma di rischio. In questo ambito l'idea è quella di scrivere un ebook, un ebook gratuito che può essere scaricato gratuitamente nel quale in qualche modo abbiamo evidenziato le opportunità che sono oggi presenti per l'investitore retail e che fino a poco tempo fa erano inibite e quindi l'idea è quella di trovare la forma di investimento in grado di dare un rendimento molto garantito senza correre i rischi e di trovare quella forma che sia il più redditiva possibile. Tutti noi sappiamo che tenere i soldi fermi sostanzialmente sotto il materasso vuol dire perdere denaro in termini reali a causa dell'inflazione, quindi bisogna trovare una forma di investimento in grado di dare un rendimento che seppur non è arrivatissimo sia in grado quantomeno di mantenere il potere acquisto in termini reali. Per questo l'idea è stata quella di scrivere questo ebook che si chiama Come scegliere il miglior conto deposito e sostanzialmente abbiamo focalizzato la nostra attenzione sui conti deposito che sono certamente un'opportunità per parcheggiare acquirità interessante e quindi all'interno di questo ebook di oltre 100 pagine abbiamo affrontato l'argomento in maniera assolutamente innovativa e in 4 capitoli nel primo capitolo abbiamo sostanzialmente descritto la meccanica dei conti deposito, a cosa servono, come si aprono piuttosto che come scegliere quello che desse maggiore opportunità e poi nel secondo capitolo invece abbiamo evidenziato i rischi e le opportunità tipiche di un conto di deposito, quindi abbiamo analizzato i costi, i costi più o meno occulti dei conti di deposito, i reali rendimenti al netto di tutti i diversi balzelli e l'effettiva garanzia che forniscono i conti di deposito e quindi il contenimento dei rischi che garantiscono anche attraverso il fondo interbancario di garanzia. Quindi il tutto è stato visto con un approccio estremamente pragmatico e per certi versi anche critico inserendo anche quelle piccole malizie che consentono di spuntare dei rendimenti elevati anche attraverso delle promozioni che spesso vengono proposte alle banche e quindi sostanzialmente attraverso la capacità di selezionare quel conto che fornisse per un periodo di tempo limitato dei rendimenti più elevati. Nel terzo capitolo abbiamo disposto alla domanda tipica, sì ho individuato il conto deposito migliore su quale parcheggiare liquidità, adesso la domanda è quanto denaro parcheggiare su questo conto di deposito? In realtà questa è una risposta che dipende naturalmente dal proprio obiettivo di investimento, dal grado di rischio e dall'orizzonte temporale, per questo abbiamo creato un modello di asset allocation, di asset allocation dinamica che ci dice quanto denaro allocare nel conto di deposito nei diversi periodi e questo a dimostrare che i conti deposito a differenza di quanto molti credono non è solo uno strumento dedicato a chi ha zero propensione a rischio, ma in realtà è anche adatto a chi è più aggressivo come stile di investimento, ma anche l'investitore più aggressivo dovrebbe avere una parte di liquidità su strumenti free risk, strumenti che sostanzialmente garantiscono un rendimento a scadenza. Quanta parte del capitale resta nel conto di deposito viene spiegato nel terzo capitolo e viene illustrato in maniera estremamente pratica e operativa e questo è tutto il filo conduttore dell'ebook, quindi argomenti trattati in maniera estremamente pratica senza troppa filosofia e andando proprio al punto per cercare di raggiungere l'obiettivo ovvero quello di trovare il conto migliore, di trovare la quantità migliore da allocare nel singolo conto di deposito. Nell'ultimo capitolo invece viene illustrato praticamente quali sono le variabili da guardare con maggiore attenzione, come guardarle, come confrontarle, come confrontare la diversa rischiorità dei diversi conti di deposito e quindi fare anche una sorta di trade off fra lo standing della banca, parleremo anche di rating delle singole banche offre i conti di deposito e il rendimento offerto. Tutto anche qui in ottica estremamente operativa, verrà poi illustrato come creare un portafoglio di conti di deposito sempre in ottica di diversificazione, non mettere tutti i capitali sullo stesso intermediario finanziario e quindi diciamo il filo conduttore di questi ebook è cercare di rispondere alla domanda che tanti ci pongono su come parcheggiare per alcuni mesi piuttosto che anni la propria liquidità su strumenti sicuri che dessero un rendimento garantito. Quindi l'obiettivo è provare a far comprendere al risparmiatore che la conoscenza degli strumenti è la condizione qua non per diventare indipendenti finanziariamente, per prendere in mano le redini del proprio risparmio e quindi in primis bisogna conoscere gli strumenti e rifuggire da quegli strumenti che spesso vengono offerti quegli strumenti di liquidità che talvolta vengono offerti con politiche di marketing molto aggressiva e poi in realtà guardando e smontando il prodotto sono prodotti piuttosto fumosi, difficili da comprendere e con rendimenti estremamente bassi. I conti di deposito a differenza di questi prodotti che purtroppo vanno ancora per la maggiore sono estremamente semplici, offrono un rendimento certo e garantito ex ante e sono particolarmente lineari. Quindi l'obiettivo di questo ebook è proprio rendere maggiormente consapevoli gli investitori circa le opportunità, cercare di schivare i trabocchetti che spesso vengono vengono fatti e gli vengono proposti e quindi diventare indipendenti finanziariamente anche con una scelta che potrebbe sembrare banale, ovvero quella scelta del conto al quale affidare il proprio risparmio, ma in realtà come vedrete nell'ebook è più complessa rispetto a quanto ci si possa immaginare. Quindi l'augurio è che questo sia un regalo di Natale gradito e vi ricordo che l'ebook è possibile scaricarlo gratuitamente dal nostro sito che è contosulconto.it semplicemente andando su contosulconto e cliccando su scarica ebook e dopo una rapida registrazione se già non siete registrati sarà possibile scaricarlo e acquisire degli elementi in più per trovare la forma di investimento migliore per parcheggiare la propria liquidità. Io vi saluto e vi faccio gli auguri di buon Natale e di buon 2013.